Può un finale di stagione salvare l'intera stagione? O addirittura può un finale di stagione salvare l'intera serie televisiva? Oggi sono qui con voi per parlare di Loki 2 e darò la mia personale risposta a questa domanda dopo la sigla. Bentornati su No Mammazzo e bentornati nella rubrica Marvel e nella rubrica Serie TV. Oggi sono con voi per parlare di Loki 2 se ci avete fatto caso rispetto all'anno scorso non ho parlato delle serie televisive Marvel puntata per puntata, episodio per episodio, che dir si voglia ma vorrei parlare con voi alla fine della serie televisiva, alla fine della stagione. Pensate addirittura per Secret Invasion non ho manco voluto dedicarci il tempo dal momento che non mi è piaciuta per niente ma con Loki dal momento che ho parlato della prima stagione e mi era anche piaciuta tra alti e bassi. Vorrei comunque parlare anche della seconda stagione che ho seguito con piacere. So che la rubrica Marvel, la rubrica Serie TV non sono le più seguite di questo canale quindi cercherò di fare una recensione breve e concisa su quello che non sto notando in altre recensioni e non mi spiego perché però so che sono fuori tempo massimo che tutti hanno già detto tutto di Loki 2 e quindi vado subito, bando alle ciance, a parlare di quello di cui vorrei parlare con voi ovvero il finale di stagione di Loki 2 ha fatto urlare tutti quanti al miracolo oddio Loki 2 è bellissimo una serie tv fantastica siamo tornati agli albori della Marvel questa è grande televisione addirittura è cinema e come se non lo so questo finale abbia spazzato via o abbia resettato il tempo se vogliamo stare in argomento abbia spazzato via tutte le puntate precedenti non mi sembra che questo finale di stagione vada a salvare vada a farci chiudere così tanto un occhio sulle puntate precedenti perché come innestamente a me di Loki 2 non mi è piaciuta tantissimo sì, ci sono delle puntate interessanti il personaggio di Obidi Ouroborus è molto carino il fatto che Victor Timely e Ouroborus hanno creato insieme la TVA ma è tutto molto confuso è tutto buttato lì a caso perché si parla di tempo di viaggi nel tempo e quindi come disse in tempi non sospetti Smart Hulk qui si parla di viaggi nel tempo quindi o è tutto uno scherzo oppure niente lo è in questo caso è tutto uno scherzo perché parlano di viaggi nel tempo come parlare di aria fritta non si capisce veramente come funziona il tutto e per tutti va bene così a me questa cosa manda i pazzi cominciamo con Victor Timely che dovrebbe essere una delle tante varianti di colui che rimane una delle tante varianti di Kang tra l'altro ora è vero che io non mi devo attaccare a quello che è nei fumetti perché nessuno ci ha detto che le cose stanno così però Nathaniel Richard ovvero Kang dovrebbe essere un essere umano ma del futuro per carità ci può stare che ci siano mille varianti di Kang però è molto strano che ci sia una variante di Kang così tanto indietro nel passato non ha molto senso non ha molto senso che ci sia questa variante che non sia pericolosa francamente quando io vidi ai tempi la scena post credit di Ant-Man and the Wasp Quantum Mania pensavo che quella variante di Kang fosse uno dei tanti Kang tornato indietro nel tempo per creare la TVA invece pare che sia nato in quegli anni e non ha assolutamente senso tutto ciò la cosa non è stata assolutamente spiegata è stata buttata lì come per dire sì c'è una variante di colui che rimane ed è nata 200 anni fa ma come cacchio funzionano le varianti non ha senso questa cosa vabbè lasciamo perdere può anche darsi che questo sia dovuto a un cambio di rotta all'ennesimo cambio di rotta della Marvel che si rifà sempre ai sondaggi ai feedback dei fan della fanbase anche della fanbase tossica come è avvenuto per The Marvel qua più che altro il cambio di rotta è dovuto alle recensioni tiepide di Ant-Man and the Wasp Quantum Mania perché pensavano che fosse un fantastico successo non hanno capito che anche quello era scritto con i piedi che anche lì era tutto scritto come se fosse aria fritta e andava bene così agli sceneggiatori ai fan non va bene questa cosa non capisco perché vada bene in Loki con queste recensioni negative con questi incassi negativi di Quantum Mania hanno pensato che Kang non andasse bene oltre al fatto che l'attore ha dei problemi legati a delle accuse di violenza o molestie verso una sua fidanzata quindi anche questo andrebbe a ledere l'immagine della Marvel della Disney e sapete che la Disney mette le mani avanti molto prima del processo e quindi stanno anche pensando di eliminare l'attore che fa Kang e quindi può essere che questa serie abbia messo una pezza al futuro della Multiverse Saga e insomma sta di fatto che quello che sembrava essere il problema principale ovvero le varianti di colui che rimane le varianti di Kang sembrano essere state rattoppate con questo finale di stagione a quanto pare le cose che sono successe nella prima stagione stanno come stanno ovvero Sylvie ha ucciso Kang e questa cosa rimane di conseguenza tutte le altre varianti di Kang sono in giro per il multiverso ma dal momento che non vogliono falciare le altre linee temporali la TVA ora si occuperà delle varianti di Kang che mi sembra una soluzione perfetta semplicemente per evitare una guerra multiversale che è stata avviata dalle varianti di Kang semplicemente si tranciano si mi ricordo come si dice in italiano comunque si eliminano le varianti di Kang stesse e forse anche con questo e con il fatto che hanno detto che sì c'è stata una variante di Kang che ha creato problemi state attenti in un universo adiacente a quello 616 ma è stata contenuta l'emergenza pare proprio che vogliono fare così pare proprio che questo Kang lo tengano come un nemicucolo un nemico di secondo ordine proprio per evitare di farlo diventare il nemico principale della multiversaga proprio per i motivi che ho appena detto ho detto fateci caso hanno definito il regno quantico un universo adiacente all'universo 616 che dovrebbe essere quello Marvel anche se è 19999 ma vabbè facciamo finta che sappiamo tutti che è il 616 anche se non è così quindi finalmente ci hanno spiegato che il regno quantico è un universo a parte e si accede attraverso il rimpicciolimento ora se questa cosa l'avessero spiegata in Quantum Mania tutte le cose raffazzonate all'interno del film sarebbero state spiegate meglio le hanno spiegate qui va bene ma non benissimo l'ultima cosa appunto il finale tanto declamato da tutti dove Loki si sacrifica molto bella è come metafora come scena non lo metto in dubbio brandendo le linee temporali che finora sono state viste attraverso questo come si chiamava questo coso che le teneva insieme mi viene questa specie di telaio ecco il telaio temporale sono sempre state viste attraverso il telaio e nella prima stagione attorno al trono di colui che rimane come una sorta di fili elettrici fasci elettrici ma che fondamentalmente potevano essere dei veri e propri universi quindi mi viene da pensare non so come dirlo in maniera delicata come cazzo fa Loki un essere tangibile alto un metro e ottanta a prendere in mano del degli universi non ha letteralmente senso cioè questo qua ha preso in mano delle linee temporali cioè capite quanto non ha senso quello che sto dicendo e tutti dicono cazzo che bello ha creato Yggdrasil l'albero della vita che unisce i nove regni sì ma sti gran cazzi come cazzo fai a prendere in mano il tempo non è scienza e con la buona pace di Obi non è neanche fantascienza sono è magia e non ha senso e questa cosa mi fa esplodere il cervello cioè come fate a accettare tutto questo non ce l'hanno minimamente spiegato ritorno al discorso di prima io non voglio pensare che sia come nei fumetti che la TVA è all'interno del regno quantico e di conseguenza siano tutti molto piccoli anzi qua mi viene da pensare che la TVA sia molto grande talmente grande che possano vedere a occhi nudi una linea temporale e brandirla con le mani di conseguenza anche l'occhi che è nella TVA sia diventato enorme come quando è nella TVA ma non ha senso altrimenti e nessuno lo dice questa cosa non la dice nessuno e vi giuro io ho guardato le recensioni di Jay Taz di Andrea Bellusci di Giulia Cosmopoliner di Kalel non ho ancora visto quella di di Victor Laszlo ma nessuno si sofferma su questa cosa e io sto impazzendo come potete passare sopra questo io non ce la faccio non lo capisco vi prego spiegatemelo davvero io sto aspettando tantissimo il video di Kalela se mai lo farà Loki 2 finale di stagione spiegato vi spiego Loki 2 lo aspetto come la seconda venuta del Signore perché davvero per quanto sia stata bella l'allegoria il sacrificio di Loki la fine del suo arco narrativo di crescita durato 14 anni a livello logico questa cosa io non l'accetto scrivetemi voi cosa cosa ne pensate innanzitutto se avete seguito Loki se avete abbandonato il Marvel Cinematic Universe ormai da da un po' di tempo scrivetelo qui sotto nei commenti io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video vi ringrazio per aver seguito il mio sfogo e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà di nuovo invece su Dylan Dog e sul Colorfest grazie per la visione